Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6 in apertura all'emergenza sanitaria perché ci sono novità degli ultimissimi minuti e lo vedremo fra poco anche con la nostra grafica perché la Regione Abruzzo ha deciso insieme al Comitato Tecnico Scientifico di varare tre zone rosse si tratta di Atessa, San Giovanni Tiatino e Tocco da Casauria proprio a Tocco da Casauria andiamo dal nostro Stefano Recanati che è anche in compagnia del sindaco Rizziero Zaccagnini Buon pomeriggio a te Stefano Buon pomeriggio Alfredo, buon pomeriggio telespettatori del Tg6 e sì sono le notizie che ci arrivano dalla Regione Abruzzo, notizie degli ultimi secondi come hai detto bene tu perché anche Tocco da Casauria sarà zona rossa a brevissimo ecco la situazione è scoppiata negli ultimi giorni, ricordiamo che l'Abruzzo è zona gialla però in questo preciso comune della provincia di Pescara ci sono tanti contagi, ci sono delle scuole chiuse per via dell'ordinanza emessa ieri sera proprio dal sindaco Rizziero Zaccagnini e quindi il presidente Marsiglio a colloquio proprio con il sindaco della cittadina ha deciso di inserire proprio il comune di Tocco da Casauria in zona rossa però per adesso vi restituisco la linea e poi sentiamo anche le parole del sindaco Sì, tra l'altro il comitato tecnico scientifico dovrebbe anche aver varato lo sapremo con l'ufficialità fra pochissimo la chiusura delle superiori e delle terze medie che dunque per 14 giorni continueranno le lezioni in didattica a distanza Noi prima di tornare da Stefano Recanati andiamo ad ascoltare l'assessore alla sanità Nicoletta Veri che questa mattina è stato intervistato dal nostro Paolo Renzetti anche perché il presidente della regione Marsiglio lo ricorderete in quarantena per la positività di due componenti del suo staff Allora sentiamo l'assessore Veri Aumentano i contagi soprattutto nell'area metropolitana Pescara Chieti con l'Abruzzo che rischia di tornare in zona arancione L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri non esclude interventi restrittivi mirati nelle zone dove si registrano in questo momento particolari problemi I contagi sono in aumento specialmente nella zona costiera nella provincia di Pescara e di Chieti abbiamo avuto ieri un numero elevato anche oggi bisogna dire però che sono già in diminuzione stiamo portando avanti il tracciamento di questi focolai stiamo analizzando quelli che sono i risultati in modo particolare l'attenzione sulla variante che voi sapete è presente nella nostra regione abbiamo un numero importante e quindi stiamo verificando quelle che sono le procedure e stiamo mettendo in atto tutte le valutazioni del caso Assessore in questo momento alla base dei dati disponibili c'è il rischio del ritorno in zona arancione? Oggi è stato riunito il comitato tecnico quindi valuteremo in base agli indici in base a quelli che sono i dati non parlerei di zona rossa ma parlerei anche di misure restrittive da mettere in atto in alcuni comuni e in alcune zone particolarmente colpite l'ospedale di Pescara è andato in affanno nei giorni precedenti quando c'è stato un numero elevato di ricoveri positivi del pronto soccorso è in atto la rete emergenziale di tutta la nostra regione per cui subito si sono attivate le emergenze e hanno trovato ospitalità a questi pazienti in altre alz per cui adesso è una situazione gestita Insomma abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Veri situazione gestita però curva che in aumento da qualche giorno si presuppone Stefano poi magari chiederai anche l'opinione del sindaco Zaccagnini che questo pomeriggio possa arrivare anche la fine della zona gialla e il rientro in zona arancione per l'Abruzzo Linea a te Stefano Eh sì Alfredo perché comunque la dottoressa Veri aveva già annunciato in mattinata come alcuni comuni potessero già dalla giornata di oggi o di domani comunque tornare a entrare in zona rossa e uno di questi come abbiamo detto è Tocco d'Aquasauria e allora io ringrazio intanto il sindaco di Tocco Rizzero Zaccagnini per averci dato la possibilità di intervistarlo qui in diretta al nostro Tg i numeri negli ultimi giorni come abbiamo detto si sono impennati sindaco la situazione attualmente com'è? La situazione attualmente è questa abbiamo iniziato uno screening chiaramente mirato non a tappeto proprio per fare un tracciamento puntuale e preciso della situazione a Tocco assieme alla Asla abbiamo allestito qui alle nostre spalle un centro tamponi dedicato all'emergenza qui a Tocco e dagli esiti dei tamponi siamo giunti ad oggi a 64 casi in pensiamo chiaramente comunque in leggero aumento perché stanno ancora processando i test di ieri e quindi avremo informazioni nella serata di oggi chiaramente non è tanto l'aumento dei numeri quanto il fatto che si sta ramificando eccessivamente e quindi è evidente che necessità di una situazione di stop per poter fare un controllo migliore a tappeto e mirato Ecco da ieri sera la decisione proprio dell'amministrazione comunale di chiudere i plessi scolastici chiusi per oggi 5 febbraio e domani 6 state pensando anche di estendere la proroga anche a lunedì? Guardi sì lavoriamo ora per ora io pochi minuti prima di venire qui mi sono sentito con il presidente della regione che ringrazio Marsilio e con il direttore generale della Asla e con la struttura sanitaria che ci sta seguendo direttamente da Pescara perché abbiamo appunto stabilito in base ai dati che bisognava dare una stretta e quindi saremo zona rossa probabilmente dalla mezzanotte di oggi e per una settimana Cosa questo comporterà lo spiegheremo nelle prossime ore dopo aver letto l'ordinanza del presidente Marsilio e probabilmente le scuole anche avranno ulteriori giorni di fermo, di stop per capire meglio anche all'interno della scuola se c'è un'evoluzione dei contagi che ad oggi sono limitatissimi però siccome ne è uscito è uscito qualche dato che ci fa mettere in allarme abbiamo preferito intanto anticipare la chiusura delle scuole e verificare giorno per giorno cosa dobbiamo fare. Ecco sindaco parlavamo di questi dati in aumento sul territorio comunale però a microfoni spenti ancora sapete se tra questi contagi, da questi positivi ci sono dei contatti con delle varianti. Sì non lo sappiamo perché abbiamo iniziato a fare questi tamponi ripeto specifici mirati qui a Tocco e durante i test chi li sta svolgendo il personale sanitario che ringrazio infinitamente per lo sforzo che sta facendo fa un test doppio cioè la spiego proprio praticamente come me l'hanno spiegato a me i medici avranno due provette, due test una delle quali servirà proprio a capire se si tratta di una variante differente da quella diciamo della prima ondata di contagio. Ecco sindaco possiamo già confermare che la zona rossa sarà attiva dalla mezzanotte di quest'oggi quindi da domani Tocco insieme agli altri due comuni a Tessa e San Giovanni Tadino saranno zona rossa questa decisione sicuramente che darà difficoltà alle tante imprese, alle tante attività che sono sul territorio comunale ma sicuramente da come è la situazione da come lei ce l'ha descritto è una decisione saggia. Sono convinto che sia una decisione saggia soprattutto perché è stata presa e l'abbiamo presa monitorando ora per ora lo stato delle cose, non è stata presa a cuor leggero, noi ad ogni ora ripeto anche fino alla tarda notte di ieri siamo stati in contatto con le istituzioni, con la regione, con l'ASL per verificare la concretezza dell'esigenza l'esigenza c'è perché altrimenti rischiamo veramente di non fermare questo contagio all'interno del paese e poi di conseguenza di escludere che poi esca anche fuori dal paese. Ecco Sindaco, lei rimarcava e adesso lo sarà sicuramente un obbligo di tenere i bambini soprattutto all'interno delle famiglie lontani da quelli che sono i contatti non proprio stretti, lei parlava di nonni, di zii, comunque di persone anziane fragili in difficoltà. Sì, è il motivo per cui le scuole vengono chiuse alla fine di un processo di analisi della situazione perché è chiaro che in una situazione un po' paradossale per cui c'è una zona gialla generalizzata in Italia ma di fatto le problematiche sono serie, non sono al tocco da Casauro in regione Abruzzo per capirci poi chiudere le scuole mentre i genitori devono andare a lavoro potrebbe significare che questi ragazzi magari asintomatici, inconsapevoli vanno a finire poi per ore e ore nelle case magari di nonni creando poi un problema grossissimo se dovessero essere positivi e contagiosi. Quindi lo sforzo che chiediamo alle famiglie è di trovare la modalità migliore perché i ragazzi stiano nel loro stretto nucleo familiare. È evidente che con la zona rossa questa cosa forse sarà anche facilitata. Allora noi ringraziamo il sindaco di Tocco da Casauro Rizzero Zaccagnini per averci portato comunque le ultime novità del comune di Tocco da Casauro. Grazie sindaco, per ora il collegamento da Tocco da Casauro finisce qui ricordandovi l'ultima, l'ultima ora della regione Abruzzo che sono la notizia più importante cioè i comuni di Atessa, San Giovanni Tiatino e Tocco da Casauro dalla mezzanotte di oggi saranno zona rossa. Per ora è tutto, linea allo studio. Sì, grazie, grazie a Stefano Recanati e a Gaetano Tereo per questo collegamento. Grazie chiaramente anche al sindaco di Tocco da Casauro per averci ospitato. Continuiamo a parlare di emergenza sanitaria perché nel frattempo si attrezzano meglio le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale che sono impegnate nella cura dei positivi. Nuove apparecchiature elettromedicali sono in dotazione a queste unità più che mai importanti nella cura dei Covid-19 a domicilio. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Noi siamo convinti che la guerra si vince sul territorio e non all'interno degli ospedali per cui per vincere questa guerra dobbiamo dotare le USCA di tutti gli strumenti idonei per fare una diagnosi precoce e soprattutto evitare un iperafflusso di pazienti all'interno degli ospedali e dei dipartimenti di emergenza urgenza. Abbiamo fortemente voluto, io come referente senare regionale, l'acquisto di numeri di ecografi sufficienti, cioè 30 per tutte le USCA e ho nominato il dottor Iannetti che è il presidente della più importante società di ultrasonografia italiana, cioè la SIUM, perché coordinasse questa operazione. Noi siamo la prima regione in Italia che ha attivato a livello di tutte le USCA questa metodica ecografica e contemporaneamente stanno partendo adesso le Marche e l'Emilia Romagna. Quindi siamo orgogliosi di aver messo in campo questa risposta che veramente ci consente di diminuire la flusso e soprattutto curare meglio. Devo dire che quando Alberto Albani mi ha chiesto di interessarmi della problematica della diagnosi della polmonite Covid relata a domicilio ho subito accolto con entusiasmo, perché in effetti l'ecografia è un mezzo molto potente, specialmente nelle fasi iniziali, per poter capire se il paziente intanto non ha la polmonite, quindi è psicologicamente molto importante, o se questa polmonite può essere curata a casa o se altrimenti bisogna andare in ospedale, proprio sia per evitare il sovraffollamento, ma anche per il benessere psicologico del paziente. Da il mese di dicembre abbiamo iniziato con la provincia dell'Aquila e abbiamo formato tutti i giovani colleghi delle USCA, i quali hanno la possibilità di inviare sia tramite WhatsApp delle brevi clip a un centro di riferimento e alla fine a me, o hanno la possibilità di inviare poi i referti degli esami ecografici ad un web comune in tutta la regione. Questo peraltro permetterà di avere dei dati importanti in tutta la regione nei pazienti che sono stati esaminati in questo modo. Adesso voltiamo pagina, la polizia di Pescara ha arrestato il responsabile di due rapine compiute nel capoluogo adriatico in manette finito un 36enne senegalese. Un 36enne senegalese è stato arrestato dalla polizia Pescara con l'accusa di rapina. Il giovane fermato ieri sera dagli agenti della squadra volante ha poi ammesso le sue responsabilità dinanzi ai poliziotti. Sarebbe responsabile anche di un altro colpo commesso il 2 febbraio scorso, sempre in città. È un'attività immediata di ricerca di polizia giudiziaria, gestita dalla squadra volante. A seguito di questa rapina, che era avvenuta alle ore 20 presso un esercizio commerciale al supermercato di via del circuito, le volanti si sono messe alla ricerca del colpevole in base alle descrizioni e sospettando che potesse essere un noto pluripregiudicato senegalese tossicodipendente con vari precedenti penali per furti, aggravati, spaccioli stupefacenti, hanno effettuato un appostamento proprio sotto il ferro di cavallo. È stato positivo perché poi il soggetto è stato rintracciato, è stato perquisito, è stato trovato in possesso della rifurtiva, in possesso anche dell'arma utilizzata per minacciare la cassiera e per impossessarsi dei 600 Euro. È stata recuperata anche la felpa e il giubbotto particolare che indossava al momento della rapina. Successivamente, durante la redazione degli atti di polizia giudiziaria, anche grazie all'intervento del commissario Zaccone, ha ammesso e confessato di aver commesso il 2 febbraio un'altra rapina con le stesse modalità in via dei Bastioni presso una locale osteria. Nuova aggressione nel carcere di Pescara dove un giovane detenuto con problemi psichici è riuscito a superare alcuni cancelli di sbarramento con l'intento di farsi giustizia da solo perché gli era stata rigettata una richiesta di lavare i propri panni presso la locale lavanderia. Al tentativo di calmarlo, un assistente della penitenziaria è stato aggredito e spintonato contro un cancello, riportando una ferita alla spalla guaribile in 10 giorni. Poi il detenuto stesso di rientro nella sezione ha aggredito anche un ispettore fratturandogli un braccio dopo essere stato bloccato mentre tentava di distruggere tutto ciò che gli capitava sotto mano. Il SAP, il sindacato della polizia penitenziaria, stigmatizza la mancata assunzione di provvedimenti da parte del Ministero della Giustizia a tutela dei poliziotti. Sempre più spesso scrive il sindacato aggredite, minacciati e feriti. I detenuti presenti in Abruzzo lo scorso 31 gennaio erano complessivamente 1.641, ricorda il SAP, dei quali 289 ristretti nel carcere di San Donato di Pescara, dove nel corso del 2020 si sono contate 27 colluttazioni e 4 ferimenti. Andiamo avanti con il nostro giornale ancora a cronaca che ci porta a Teramo, un gruppo di trentenni, aggredito verbalmente in pieno centro storico due agenti della polizia locale. Gli uomini ubriachi non hanno preso bene il richiamo dei vigili alle norme anti-assembramento. Il comando della Municipale ha disposto stretta osservanza per le attività di distribuzione di bevande e alcolici e non mancano le sanzioni a chi resta aperto dopo le ore 18. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si intensificano a Teramo città i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anti-covid. Si ripetono però sempre più spesso episodi di intolleranza verso gli agenti di polizia, i carabinieri e i vigili municipali. Questi ultimi sono stati aggrediti verbalmente proprio ieri da un gruppo di trentenni in pieno giorno e in pieno centro storico. Ubriachi, assembrati e senza mascherina, gli uomini non hanno preso bene il richiamo dei vigili, dando in escandescenze. Sotto stretta osservanza restano quindi le attività di distribuzione di bevande e alcolici. La polizia locale ricorda che dalle 18 in poi i bar devono chiudere, non possono fare asporto ed è proibito bere in strada. Regole che ancora oggi non sono chiare a tutti, il bar Duomo in Piazza Orsini per esempio, è stato appena multato per essere rimasto aperto dopo l'ora consentita. 200 Euro di sanzione che incidono purtroppo duramente sul bilancio dell'attività. Purtroppo è stato multato per non aver rispettato alcune regole di apertura e chiusura, ma la situazione è difficile per voi? Sì, abbastanza perché comunque sia, le multe comunque si deve pagare, il lavoro è quello che è. Perché è stato multato? Ieri sera sono venuti vigili, erano le 7.20, io personalmente sapevo che comunque sia che l'avevo letto sopra un sito che si poteva lasciare aperto e asporto sopra le 6, invece i vigili sono venuti e mi hanno detto che no e quindi ho scattato l'ispezione, la contestazione e tutto. Come ve la siete passata in questi mesi di lockdown? Insomma, di verità non tanto bene, però riesco a mantenermi anche perché sto solo, non sono dipendenti, quindi riesco a pagare l'affitto, la luce. Dopo l'incidente che è costato la vita a tre operai nel dicembre scorso e il conseguente blocco della produzione, dipendenti e sindacati che operano all'interno della Sabino Esplodenti di Casalbordino si dicono preoccupati per il loro futuro occupazionale. L'azienda infatti, nelle more delle indagini, anticiperà un mese di cassa integrazione, quello di gennaio, ma ha paventato la chiusura. Sentiamo. CGL e Cisle Will esprimono preoccupazione per la sorte dei dipendenti della Sabino Esplodenti di Casalbordino, all'interno della quale il 21 dicembre scorso un grave incidente è costato la vita a tre operai rimasti uccisi da un'esplosione mentre movimentavano materiale esplosivo a bassa potenza. Mentre sull'episodio indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Vasto e mentre esposti delle associazioni ambientalisti ed in particolare del Forum dell'Acqua Bruzzo gettano ombre sulla corretta applicazione delle disposizioni della direttiva Seveso, la produzione è ferma proprio per il sequestro dettato dalle esigenze degli inquirenti. L'azienda, scrivono i sindacati al termine di un incontro con la proprietà avvenuto nella sede di Confindustria, ha confermato di essersi messa a totale disposizione degli inquirenti affinché nel più breve tempo possibile si giunga la chiusura delle indagini. I rappresentanti dei lavoratori hanno sollecitato la Sabino Esplodenti a farsi carico delle retribuzioni dei dipendenti che sono attualmente in cassa integrazione, ma i referenti aziendali, sottolineando l'attuale difficoltà finanziaria conseguente al blocco produttivo, hanno garantito il pagamento della sola mensilità di gennaio, paventando anche la possibile chiusura del sito produttivo. Sia i sindacati che le RSU aziendali, si legge in un comunicato unitario, auspicano che la Procura della Repubblica di Vasto faccia tutto il possibile affinché si portino a compimento le indagini in tempi celeri, compatibilmente con le necessità istruttorie e che possano permettere la ripresa anche parziale dell'attività lavorativa, scongiurando così la ventilata chiusura dell'azienda. La Sabino Esplodenti è uno dei 23 siti a rischio di incidente rilevante disseminati in Abruzzo, per questi la Giunta regionale nelle ultime ore, su proposta dell'assessore Campitelli, ha deliberato una nuova pianificazione e programmazione delle attività ispettive ordinarie. La programmazione per il quinquennio 2021-2025 è stata elaborata con il supporto dell'Art Abruzzo sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Ispra. La programmazione suddivide gli stabilimenti a rischio in classi differenti di priorità, a ciascuna delle quali è stata associata una frequenza di ispezione minima sulla base degli indici di riferimento previsti dalla legge. Ora lo sport, partiamo dalla B, domani alle 14 il Pescara ospita la Regina per un match che è già delicato in chiave salvezza. Ancora out, Galano e Memuschai, recuperato Seterra, l'allenatore Breda, ex della partita, traccia anche un bilancio del mercato appena concluso. Sentiamo il servizio. Quello che esce fuori dal mercato invernale è un Pescara rinforzato, ne è certo il tecnico Roberto Breda che si sofferma sulla rosa che ha a disposizione da questa settimana. Evidente come l'arrivo dei vari hotguard, Giannetti, De Sena, Tabanelli, Sorensen, conferisca alla squadra una maggiore fisicità, ma non solo. Una delle caratteristiche che risaltano di più è la struttura e la fisicità dei giocatori che sono arrivati, ma sono anche giocatori tecnici perché sono tutti i giocatori che sono arrivati dal centrocampo in su, dove il difensore Sorensen è un po' un discorso diverso, proprio gli altri, sono anche tutti i giocatori tecnici. Quindi credo che i nostri passi in avanti, col fatto che siamo ultimi, devono essere da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista della concretezza e della struttura, però anche dal punto di vista del gioco e della pericolosità. La rincorsa salvezza, la risalita dall'ultimo posto, passano per un ritmo di punti e di vittoria decisamente sostenuto nel girone di ritorno. Logico che dobbiamo sapere che dobbiamo raddoppiare i punti dell'andata, perché invece farne 16 devi farne la trentina. 30 vuol dire un punto e mezzo a partita. Una vittoria ogni due. Non è una cosa impossibile, perché in ogni caso non è che dobbiamo farli solo noi, perché non è che siamo 30 punti da chi sta davanti a noi, devono farli un po' tutti, chi è più bravo da questo punto di vista si salva. Fino alla settima, ottava partita mia, avevamo qua a media, quindi anche là non è una cosa impossibile neanche per il nostro gruppo, dobbiamo mantenerla adesso per il resto delle partite. Questo vuol dire, logico, vincere su 7, 8, 9 partite dipende, quindi devi giocare sempre per provare a vincere. La partita di domani con la regina è già fondamentale, perché è uno scontro diretto e oltre ai punti deve dare al Pescara la spinta giusta per poter poi sfidare le migliori del campionato. Seter ha recuperato e sarà a disposizione. I giocatori arrivati lunedì stanno bene e il principale candidato a partire dal primo minuto è De Sena. In panchina sarà sfida fra ex Marco Baroni, Guidoio e Pescara nella stagione 14-15 per poi essere esonerato a seguito della sconfitta contro il retrocesso Varese alla penultima giornata, avvicendato da Oddo. Per Breda una partita speciale perché con la regina ha iniziato ad allenare prima la primavera e poi la prima squadra per sostituire l'esonerato Ivo Iaconi nel febbreo 2010 e portare la squadra alla salvezza, regina allenata anche due anni dopo. La squadra è un'altra squadra che si è rinforzata perché è andata a prendere gli elementi e poi hanno cambiato modulo nel cambio d'allenatore in maniera radicale passando da una difesa a 3 a un 4-2-3-1, 4-4-2 e quindi hanno veramente preso degli esterni, ha fatto secondo me un mercato molto funzionale ed è una squadra che appunto partendo anche dal mercato che aveva fatto quest'estate è una squadra che hanno tutti un po' dietro secondo me, quasi tutti si sono rinforzati. Su Reggio, se dal punto di vista del calciatore devo tutto assalerno, dal punto di vista di allenatore se non c'è la regina non avrei fatto questo mestiere perché mi hanno proprio chiamato loro quando era un momento che non allenavo neanche, che veramente sono molto legato a quella piazza e alle persone che in quel momento hanno dato questa opportunità anche se quelle persone non ci sono più perché uno era Foti, presidente e uno era Giacchetta, direttore sportivo. Precedenti poco incoraggianti per il Pescara contro la regina, negli ultimi 5 episodi all'Adriatico i Biancazzori non hanno mai vinto, l'ultima affermazione casalinga risale al febbreo 97, 3-0 firmato Giampaolo, Doppietta e Gelsi. Direzione di gara affidata all'internazionale Fabio Maresca di Napoli che torna a dirigere dopo lo stop a seguito delle polemiche per Udinese Inter. L'ultima vittoria del Pescara con Maresca risale all'ottobre 2015 ma in quella stessa stagione Maresca fu l'arbitro della finale di ritorno di Trapani che consegnò ai Biancazzori l'ultima promozione in Serie A. In Serie C sarà Luca Angelucci di Foligno a dirigere il match di domenica fra Teramo e Monopoli tra i biancorossi sarà sicuro assente Mungo mentre ancora da valutare la disponibilità di Diachite oltre a Vitturini. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Seduta mattutina per il Teramo che ha la testa rivolta al match di domenica pomeriggio ore 15 contro il Monopoli sarà l'opportunità di vendicare sportivamente il cappotto dello scorso campionato quando i pugliesi vinsero entrambe le partite senza mai incassare gol e la gara di ritorno di un anno fa costò peraltro la panchina all'allenatore Bruno Tedino. Il Diavolo ha intrapreso l'operazione riscatto nella partita d'andata 0-2 senza storia con le reti di Ilari e Costa Ferreira nel primo tempo. Teramo che si ritroverà contro come fresco ex Cristian Bunino che in bianco rosso non ha convinto, 0 gol in 11 presenze e la necessità di cambiare aria per trovare l'ambiente giusto dove sbloccarsi. A Monopoli Bunino è stato subito protagonista, prima in negativo fallendo un rigore con il Catanzaro costato la vittoria ai pugliesi raggiunti nel finale, poi in positivo segnando due reti consecutive nella vittoria sulla Juve Stabia e nella sconfitta di Catania. Teramo che domenica sarà privo di Domenico Bungo per la distorsione al ginocchio destro rimediata a Foggia e che lo porterà allo stop per un po' di tempo. Ilari e Viero sono i candidati alla sua sostituzione nel 4-3-3 sdoganato da alcune partite dal tecnico Paci. Dechite e Vittorini sono gli altri dubbi, non è ancora chiaro se il giocatore Franco Magliano, escluso dai convocati nelle ultime due partite e su scelta della società, potrà essere regolarmente a disposizione. Vittorini è a riduce da un affaticamento muscolare e le sue condizioni saranno monitorate fino alla rifinitura di domani. In caso di assenza di entrambi, Paci potrebbe di nuovo sacrificare come terzino Costa Ferrera che altrimenti farà parte del tridente con Pinzauti e Bombaggi, quest'ultimo peraltro appena entrato in diffida. Direzione di gara affidata a Luca Angelucci di Foligno che ha incontrato il Teramo una volta sola, vittoria sulla Casertana 4-3 nell'ottobre 2019. Tre precedenti col Monopoli, due vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per i pugliesi. Nella rossa del Teramo già da giorni si allena il promettente centrocampista classe 2002 Luca Lombardi, arrivato in prestito dal Monza. Il giocatore parla dell'inserimento nel nuovo gruppo e dei suoi trascorsi alla Re Canatese quando giocava più avanzato. Sì, diciamo che quando ero a Re Canatese giocavo in una posizione più avanzata, più trequartista. Invece quando sono stato acquistato dal Monza mi hanno spostato un po' più, mi hanno un po' arretrato diciamo, più mezzala play, un po' più regista. Sono belle sensazioni, comunque mi sto trovando molto bene, mi hanno accolto bene e spero di dare un buon contributo per questa squadra e mi aspetto di crescere ancora, perché tanto sono ancora un ragazzo e qua ho trovato un gruppo che mi può aiutare ancora a crescere, come c'è anche il mister che ha giocato a alti livelli, mi può aiutare. Adesso due notizie che riguardano il calcio a 5 e poi la palla a volo. Partiamo dal Futsal, riprende il campionato di A domani alle 17. La capolista Acqua e Sapone Unigross giocherà a Mantova, mentre alle ore 19 al Palarigopiano la Colormax Pescara ospiterà il Padova. Ferma la A2, in B la Real Dem riceverà alle 16 il Molfetta. In A femminile domani al Palarigopiano anticipo alle ore 15 del Montesilvano contro il kick-off. In A2 domenica alle 15 Florida Pescara a Chiaravalle alle 16 ad Avezzano in programma Orione-Santa Maria Nuova, mentre alle 17 si giocherà Sabina Lazio-Francavilla. Per quanto riguarda invece la palla a volo, nel recupero di ieri sera per la A2 la Sieco-Ortona-Bissa con lo stesso punteggio 3-1 il successo di Castellana sbancando anche Mondovì. Domani si resterà in Piemonte alle 18 in programma Cuneo-Sieco. In A3 domenica alle 18 al Palasanta Maria la capolista Abba-Pinetto ospiterà il Tuscania in B domani alle 18.30 Molfetta-Paglietta e domenica alle 17 Loreto-Alba-Driatica. In B1 femminile rinviata a causa Covid Trevi con Nettichietti. Domenica alle 17.30 l'Altino affronterà il Casal dei Pazzi. In B2 domani alle 17 derby al Palo-Orfento tra il Gada Pescara 3 e l'Arabona. Domenica l'impianti Futura Teramo riceverà il fermo alle 17.30. Prima di chiudere vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale l'ultima ora con l'ordinanza e la firma del Presidente Marsilio che si attende in giornata dalla mezzanotte zona rossa per Tocco da Casauri a San Giovanni Tiatino ed a Tessa. Questa è la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di concerto con la Regione Abruzzo. Si sta valutando, lo apprenderemo nel corso del pomeriggio, anche di chiudere le terze medie e le superiori che dunque dovrebbero proseguire per i prossimi 14 giorni la didattica a distanza. Vi ricordo anche che nel pomeriggio si attende la decisione della cabina di regia nazionale. Vedremo se l'Abruzzo resterà zona gialla o come più probabile si tornerà in zona arancione. Chiaramente potete seguire tutto nel prossimo aggiornamento del TG6 alle ore 19. I nostri servizi sono on demand su tutte le piattaforme internet. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.